Sì Presidente, sinceramente condivido poco l'ironia dei colleghi perché insomma cerchiamo sempre di esaminare gli atti nel merito e di portare il contributo di tutti, maggioranza e opposizione al tema della mobilità che è sicuramente un tema complesso e difficile nella nostra città. Andando quindi nel merito dell'atto stupiremo il Consiglio Zannola ma voteremo sì a questa mozione anche se la condividiamo nello spirito, ci sarebbero alcuni aspetti magari da dettagliare meglio però sicuramente lo spirito lo condividiamo. Sicuramente è necessario aumentare i fondi del Fondo Nazionale dei Trasporti perdonatemi la doppia menzione della parola fondo ma è anche altrettanto necessario, importante e necessario che poi questi fondi della Regione Lazio li destini alla capitale d'Italia. Non sempre è avvenuto, non voglio puntare il dito contro nessuno né fare brutti e cattivi però se andiamo a contare i chilometri che fanno nel Lazio Atac e quelli che fanno Cotral non so se sempre questa ripartizione dei fondi, non so se i chilometri effettivamente effettuati nella Regione è stato un metro per decidere il riparto dei fondi nazionali dei trasporti da parte della Regione Lazio. Però appunto, ripeto, condividiamo lo spirito, anzi a noi è da tempo che rilanciamo questo dibattito perché riteniamo che Roma Capitale debba ottenere direttamente i fondi dal Fondo Nazionale perdonatemi ancora una volta la ripetizione perché una città come Roma Capitale d'Italia è una città che non devo certo ricordarlo io, interessata da importanti flussi turistici interessata da un pendolarismo dai comuni limitrofi, molto molto importante è chiaro che una città con le caratteristiche di Roma deve essere autonoma non solo da questo punto di vista ma sicuramente dal punto di vista della mobilità e della gestione del Fondo Nazionale dei Trasporti. Quindi comunque, ripeto, il nostro voto sarà positivo anche se, diciamo così, l'atto leggendo il dispositivo ci sarebbe piaciuto migliorare alcuni aspetti ma non vogliamo perdere tempo nella discussione, è importante che si parli di questi temi. Ripeto, servirebbe a poco aumentare i fondi per la Regione Lazio se poi la Regione Lazio non li destina a Roma obiettivo un po' più ambizioso ma da raggiungere a breve termine è quello che Roma possa accedere direttamente al Fondo Nazionale. Grazie Presidente.